Buona giornata e buon venerdì a tutti voi cari telespettatori di Fano TV sintonizzati sul canale 17 per la rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali che come sempre inizia con l'almanacco e il santo di oggi magari ne approfittiamo per fare gli auguri di buon anomastico che si chiama Buonaventura? Sì, perché no? San Buonaventura, il sole è sorto alle 5.39, tramonterà alle 20.49 Come sempre diamo anche uno sguardo al tempo con il sito della protezione civile delle Marche che per oggi mette cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento, soprattutto quelle minime alcuni venti deboli al mattino per poi divenire di brezza tesa nel pomeriggio ma insomma per quanto riguarda la pioggia diciamo subito sgomberiamo il campo come si dice dalle nuvole dei dubbi non ci sono piogge previste da qui ai prossimi giorni sempre soltanto sole e temperature in aumento anche domenica, sabato domenica vedete cielo sereno o poco nuvoloso, uno sguardo veloce alle temperature previste per la giornata di oggi la temperatura più calda sarà registrata ad Ascoli Piceno alle 2 del pomeriggio con 34 gradi mentre dalle nostre parti, provincia di Piesa Urbino, si arriva intorno ai 32 gradi se volete tra virgolette un po' di refrigerio ma si fa per dire, bisognerà andare in montagna Pintura di Bolognola dove si toccheranno i 26 gradi alle 2 del pomeriggio allora adesso invece andiamo subito a vedere la situazione al mare con il nostro Marco che si trova ai Bagnalda di Ponte Sasso, siamo sempre nel Fanese buongiorno, dietro di te hai un sole accecante veramente, buongiorno a tutti una bella palla di fuoco, ma che bella però questa mattina infatti già brucia alle spalle, riflette sul mare e poi è bellissimo allora abbiamo visto temperature minime in risalita quindi questa mattina rispetto a ieri è meno fresco a quest'ora, perché ieri era un po' freschino invece oggi si sta bene e vedo infatti già gente che ne ha approfittato per buttare i piedi in acqua sì, ci sono dei signori che raccolgono le vongole c'è chi raccoglie gli ori e monetine varie con il metal detector in acqua ecco per chi non lo sapesse ma tanto è girato di spalle quindi non violiamo la sua privacy è quello, è l'umino che sta sulla sinistra del vostro televisore che adesso è fermo, ma se vedete bene ha qualcosa in mano che appunto è quel famoso metal detector che suona, fa bip bip quando sente qualcosa di metallico spesso è ferro, ma a volte ci si trova anche qualcosa di interessante giusto? sì, anelli, orecchini, catenine tappi anche quelli, perciò il più delle volte sono tappi allora, intanto vabbè, ti chiedo di rito come sarà il mare oggi per i nostri turisti, bagnanti, residenti guarda, non ci sono parole basta guardare cos'è ed è meravigliosa altra giornata estiva di quelle splendide venite e andate al mare finché c'è il sole non si sa quanto durerà sta cosa perché è sempre più anomala sì, sì, fortunatamente sì e ti risulta anche che aumenteranno le temperature? sì, decisamente sì anche arrivare la prossima settimana sarà sempre peggio fortunatamente per noi e sfortunatamente per le campagne per le campagne che invece necessitano vedremo forse anche tra poco di veramente tanta acqua sono a rischio il vino, l'olio insomma, non so come sarà quest'autunno insomma, voi che fate in autunno? una volta che è finita la stagione che fate? andate in ferie spero sì, vado al di là del bancone come si dice perché sono abituato a stare dalla parte opposta perciò rifacciamo un pochino di mare dove troviamo aperto perché logicamente non tutti tengono aperto noi partiamo quando è ottobre sempre in Italia, rimaniamo e perciò ci spostiamo in Sicilia o in Sardegna dove ancora qualche stabile è aperto, giusto sì, sì, sì giustamente anche voi avete bisogno poi di godervi un po' le vacanze bene, io intanto ti ringrazio Marco ci vediamo domani mattina buona giornata e buon lavoro a tutti voi buon giornato a voi allora, iniziamo adesso andiamo a vedere i giornali questa mattina, diciamolo subito in primo piano c'è la sanità regionale ieri il governatore Acquaroli espressione di Fratelli d'Italia quindi una regione, la nostra guidata dal centro-destra il partito di Giorgia Meloni Francesco Acquaroli, come dicevo ha, insieme all'assessore regionale della sanità Filippo Saltamartini ha incontrato a Pesero, al campus circa 200 sanitari ai quali ha raccontato e spiegato nel dettaglio come sarà la sanità regionale da qui in avanti e di questo parlano ovviamente con ampi servizi i due quotidiani il resto del Calino e il Corriere Adriatico allora anche noi questa mattina cercheremo di capire un po' come al di là della politica e delle battute politiche ieri la cancellazione di Marche Nord sembrava che crollasse il mondo in realtà andiamo a vedere andremo a vedere tra poco e scopriremo che i medici sono d'accordo con questa con questa riorganizzazione ma velocemente andiamo a vedere subito il Corriere Adriatico il titolo di apertura di oggi è via Marche Nord cioè l'azienda sanitaria regionale Marche Nord due punti consensi ecco vedete già tutto cambia e sinceramente a leggere un titolo così un pochettino ci rincuora perché finché parla la politica ognuno tira l'acqua al suo mulino ma quando parlano coloro che poi ci devono mettere le mani addosso perché ci devono curare sentire che sono contenti sono comunque favorevoli a questa riorganizzazione ci fa stare un po' più sereni al netto delle polemiche politiche che ci interessano quando si parla di salute fino a un certo punto allora Acquaroli e Saltamartini illustrano a Pesaro la riforma la direttrice dell'azienda ovvero Maria Capalbo è favorevole il personale ospedaliero si mostra collaborativo anche il sindaco Seri apre alla regione invece Ricci che cosa fa? resta col cerino in mano resta solo a dire che è contrario a questa riorganizzazione ecco quando dicevo la politica che ci interessa fino a un certo punto e dunque ci interessa fino a un certo punto lo sbraitare del sindaco di Pesaro l'importante è che chi invece quindi il personale ospedaliero i medici e tutti quanti gli altri insomma siano invece d'accordo e che quindi questa riforma porti risultati positivi allora la fotonotizia invece restando dalle parti di Pesaro è sulla nuova rotatoria dopo vent'anni sulle Siligate si è insediato il cantiere di Anas lungo l'Adriatica sarà una maxi rotatoria ma si parla appunto di emergenza sanità con un richiamo anche in prima pagina giustamente SOS si cita la produzione di vino e olio cala del 30% e non è assolutamente poco la nuova ondata di calore che si appresta ad investire le marche fa tornare prepotentemente in primo piano una criticità mai sanata l'allarme si cita i danni iniziano a farsi tangibili soprattutto in agricoltura col diretti ha stimato che nelle produzioni di vino e di olio la flessione si assesterà su un meno 30% e si va verso lo stato di emergenza e salgono a 92 i comuni che hanno emanato ordinanze anti spreco e poi a proposito di viabilità a Pesaro sulla circonvalazione Santa Veneranda sono arrivati i picchetti nelle aree dunque le stanno espropriando i terreni credo che sia autostrade per questa circonvalazione nuova o Quasellino chiamatelo come volete insomma di Santa Veneranda poi mancano quasi 40 vigili del fuoco noi siamo allo stremo e qui c'è il grido di dolore del sindacato che appunto raggruppa il personale dei pompieri mentre la cocaina da spacciare pagata con le ricariche una coppia è stata accusata non solo dello smercio di droga ma deve rispondere anche del reato di riciclaggio quindi spaccio e riciclaggio di denaro in due sono finiti dunque a processo si tratta di una ramificazione di una indagine più complessa che ha già visto con danni pesanti per alcuni membri di gruppi di un gruppo di campano di persone della campania che operavano sul territorio pesarese ieri davanti al collegio di Pesaro sono finiti un 42enne e una donna di 26 anni poi sul biodigestore c'è invece adesso un ricorso al TAR eppure contro Fano ma io questa mattina andiamo a vedere il resto del carino di Pesaro questa è l'altra apertura allora intanto la regione che incassa vedete anche qui il sì dei medici riforma sanitaria e azzeramento di Marche Nord Acquaroli e Saltamartini dicono miglioreremo i servizi poi maxirotatoria sull'Urbinate e bretellina di Santa Veneranda autostrade parte con gli espropri le opere compensative per la terza corsia dell'autostrada che ormai è stata completata da molti anni ma parliamo ancora di opere compensative a centropagina la fotonotizia da Urbino il museo diventa infinito recuperato il secondo piano di Palazzo Ducale poi a Pesaro il problema di Galleria Roma il comune va in difesa prima di tutto la sicurezza i lavori al momento solo annunciati affano invece la variante altro tema caldo la variante di Gimarre il tracciato ormai è deciso mentre sugli stagionali è polemica un cuoco pagato 4.000 euro beh trovatemelo io gli stringo la mano come dire difficile trovare gente che un tempo sì certamente chef anche insomma ma bastava anche un cuoco adesso non proprio chef stellato ma insomma un cuoco che prendesse 4.000 euro un tempo era fattibile anche quelli che andavano a lavorare in montagna eccetera oggi un po' meno e di questo si parla sul giornale di questa mattina poi lo sport come sempre in fondo alla prima pagina del quotidiano VL si fa in salita la strada per Robinson mentre il calcio Vissu ufficiale e Garebba altri tre colpi in canne arrivò anche a Uccelli Campani e Gazzolini adesso invece vorrei partire prima di parlare di sanità vorrei partire con un'altra notizia che il Corriere Adriatico pubblica sulla pagina di Senigallia Senigallia che ci offre sempre un sacco di notizie anche interessanti curiose beh certamente qui parliamo di tre situazioni un po' al limite con tre litigi che fortunatamente si sono limitati con insomma senza troppi problemi con qualche scoriazione insomma per coloro che per i protagonisti però andiamo a vedere il titolo dalla pagina di Senigallia intanto ripeto Sabrina Marinelli in questo articolo sulla pagina di Senigallia racconta di tre episodi il titolo però è su quello forse più curioso lei ha 79 anni lui 77 e litigano per gelosia e per quale motivo perché lei 79 anni appunto scopre che il marito chatta con un'altra donna la polizia interviene però anche per il diverbio tra due coniugi tra due coniugi e per un parente non gradito in casa allora velocemente tanto per così non vi leggo tutto ovviamente vi dico soltanto alcune ve ne cito vi cito soltanto alcune un po' di cose ma non tutte perché non voglio togliervi il gusto di leggere l'articolo allora nell'immediata periferia di Senigallia per esempio il primo episodio un 19enne è stato protagonista di un'animata discussione familiare finita con qualche escoriazione per gli intervenuti questo 19enne ha detto ai poliziotti che sono arrivati lì che era stato inseguito dal fratello della sua fidanzata che insomma manifestava intenzioni un po' aggressive e quindi il litigio era venuto sotto casa poi in realtà i poliziotti hanno chiarito e appurato che questo litigio era avvenuto semplicemente intanto per futili motivi trafinanzati il fratello di lei era intervenuto per dirimere un po' la situazione quindi per poi alla fine insomma sono andati avanti e poi leggerete invece l'altro litigio l'altro litigio acceso tra una moglie di 40 anni e un marito di 45 il motivo di questo diverbio era dovuto alla presenza di un ospite che dopo qualche giorno era diventato un po' pesante come si dice il fratello di lui che era stato ospitato in casa come spesso succede magari uno dà un posto letto per dormire per un giorno due al massimo poi insomma quando cominciano ad essere un po' più giorni questa persona ha cominciato a creare non pochi problemi di sostenibilità della convivenza e quindi insomma è nato un diverbio piuttosto acceso tra questo quarantenne tra moglie e marito 40 e 45 anni l'ultima invece in una frazione di Senigallia il giornale racconta questa mattina appunto lei di 79 anni lui di 77 sospettava la donna che il marito avesse una relazione extra coniugale con una donna in una chat cioè al telefonino o al computer ecco avesse una relazione extra coniugale con una donna conosciuta online con la quale avrebbe le avrebbe sorpresi accettare naturalmente lui ha negato tutto quanto poi però sono arrivati i poliziotti e insomma gli hanno consigliato un consulente matrimoniale oppure di trovare un'altra soluzione magari anche momentaneamente di stare un po' distanti dall'altro per far tornare un po' la calma ecco questo per come dire iniziare la nostra rassegna stampa ma adesso invece parliamo di sanità la sanità pesarese senza l'azienda ospedaliera Marche Nord meno direttori più risparmi ed efficienza allora questo è questo è lo scenario intanto la fotografia dell'assessore Saltamartini per chi non conoscesse e magari ci segue qui ed è in vacanza eccetera quindi non conoscono i protagonisti allora l'assessore Saltamartini a sinistra il presidente della regione Marche Acquaroli a destra sotto invece alcuni consiglieri per lo più di centrodestra con in primo piano il vice presidente Carloni insomma questa era un po' una parte della fotografia perché poi duecento sanitari evidentemente stanno da un'altra parte ma comunque racconta e scrive Roberto Damiani sulle colonne del resto del Carlino che appunto Saltamartini e Acquaroli hanno incontrato ha spiegato ai duecento sanitari presenti il contenuto di questa riforma sull'organizzazione di Asur e ospedali che confluiranno attenzione in un'unica struttura che si chiamerà AST ovvero aziende sanitarie territoriali e di fatto quindi verranno aboliti abolite le Asur l'area vasta e l'azienda ospedaliera Marche Nord e dunque dice Saltamartini così andremo ad accorciare le strutture che decidono realizzando un primo obiettivo ovvero il risparmio la razionalizzazione e la rapidità di intervento poi il giornalista gli fa notare che però il problema è che le ambulanze sono senza medici non ci sono nemmeno al pronto soccorso nelle guardie mediche nei reparti ci sono le liste d'attesa per le prestazioni molto lunghe che durano a direttore mesi e quindi con il risultato che migliaia di marchigiani soprattutto pesaresi vanno a curarsi in Romagna per una spesa complessiva di 114 milioni annui di soldi pubblici che finiscono a cliniche private e agli ospedali romagnoli ora la risposta di Saltamartini è che insomma questo non succede soltanto nelle marche succede anche in altri posti abbiamo previsto dice ancora Saltamartini nella nostra riforma un ruolo prezioso per un ruolo prezioso per i sindaci dovranno fornire pareri e giudizi sul lavoro svolto dal direttore provinciale dell'AST non sarà vincolante eccetera eccetera però ecco comunque per dire che quello che si prefigge questa riorganizzazione è quello di appunto risparmiare e non è poco soldi razionalizzare e fare interventi più rapidi vogliamo anche che i cittadini dicano la loro un po' come succede per le recensioni su TripAdvisor o altre su Google eccetera quindi potranno fare recensioni sulla qualità del servizio e questo non è male i medici che cosa dicono promuovono vedete la riforma è questa la strada da seguire e questo come dicevo all'inizio un po' ci rincuora i molti infatti hanno detto sì durante l'assemblea con i vertici regionali uno su tutti Frausini il primario di medicina dice basta con le due strutture e dunque tutti hanno detto sì tutti questi 200 sanitari soprattutto medici che ieri hanno incontrato appunto i vertici regionali entusiasta il dottor Morabito dice finalmente torniamo ad avere una struttura omogenea e non spezzettata un altro collega invece aggiunge mi sembra un bel passo avanti per integrare ospedale territorio applaudito a lungo anche l'intervento del dottor Gabriele Frausini primario di medicina generale Marche Nord sia chiaro che non faccio questione di destra o di sinistra non c'è nulla di politico nelle mie valutazioni parlo di efficacia dell'organizzazione finalmente siamo di fronte ad una scelta razionale un paziente non è curato solo in ospedale ma anche a casa una volta superata la fase acuta deve essere seguito sul territorio e questo fino adesso era compito che doveva fare un'altra struttura distinta dall'ospedale che è l'Asur area vasta non sempre ci sono state uniformità di vedute perché le aziende sanitarie erano diverse ed avevano obiettivi differenti e questo è vero è verissimo quello che dice Frausini in questo caso è verissimo perché una volta che poi escono dall'ospedale non è che uno esce ed è guarito al 100% quindi magari deve continuare a casa ma poi a casa passa sotto un'altra gestione potete immaginare da soli senza che stiamo a discutere troppo mentre la mobilità passiva per Carlo Ciccioli che è il consigliere regionale sempre di centro-destra la mobilità passiva è un'eredità che arriva dalla sinistra il governo regionale quindi è qualcosa che ci si porta dietro il consigliere replica Ricci e Ceriscioli nessun campanilismo ma un cambio di rotta necessario il Corriere Adriatico invece e qui andrei soltanto a leggere la pagina 7 ma c'è anche un'altra pagina allora a proposito di dirigenti favorevoli c'è anche il parere insomma abbastanza pesante come per importanza perché parliamo del direttore generale dell'azienda che verrà chiusa Marche Nord è la Capalbo Maria Capalbo che è favorevole il personale collaborativo è arrivato il sì anche dall'altro dirigente che è Magnoni dell'Asul che anche questo verrà soppresso insomma la direttrice ascoltata in regione il governatore paradipendenti e insomma anche qui come dire tutti quanti hanno incassato il loro sì la Capalbo si è mostrata molto ben disposta verso la riforma affermando che questo cambiamento è utile perché l'organizzazione dei servizi nel Pesarese ha sofferto di una difficoltà di comunicazione vedete tra le aziende e la sanità efficiente è quella che si organizza con l'integrazione tra ospedale e territorio e poi insomma tutti i particolari li potrete trovare e leggere sul giornale di questa mattina il Corriere Adriatico il Corriere che ha intervistato anche Massimo Seri il sindaco di Fano adesso via Marche Nord ma si attrezzino i reparti il sindaco apre alla riforma per garantire il territorio e intanto andiamo chiudiamo quindi questa pagina dedicata alla riforma sanitaria e vediamo le altre notizie pagina 12 il resto del carino Contromano la cronaca Contromano con una vecchia utilitare con una vecchia macchina si schianta due feriti gravi l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio alle 18.30 in via Mondini siamo a Pesero in direzione della rotatoria di Santa Colomba uno schianto ieri pomeriggio poco lontano dalla rotatoria un automobilista milanese di 44 anni alla guida di una vecchia auto bianchi a 112 in viaggio sulla statale Adriatica in direzione sud ha imboccato erroneamente il ponte su via Mondini finendo praticamente Contromano e nel senso opposto è arrivata una vettura guidata a un 62enne albanese l'impatto è stato violento ed entrambi i conducenti hanno riportato gravissime ferite sulla quarta dose oltre 5.000 prenotazioni sono i numeri regionali nella settimana dal 6 al 12 luglio più più 31% di positivi sulla variante Digimar invece che trova spazio sulla pagina di Fano del Carlino il tracciato è ormai deciso la società Abacus ha consegnato l'11 luglio scorso il progetto di fattibilità realizzarla costerà 20 milioni di euro ed è previsto anche un tunnel già il percorso della variante c'è questo percorso della variante Digimar il progetto tecnico-economico è stato consegnato all'amministrazione comunale di Fano l'11 luglio scorso e il progetto dice l'assessore Fanesi aggira la collina del Carmine non prevede la realizzazione di alcuna galleria e riduce in modo consistente nella parte nord della città il traffico e il rumore lungo la statale 16 e la via Flaminia e poi insomma ha parlato l'assessore Fanesi di questa spesa di 20 milioni di euro da impegnare praticamente subito sotto invece non ci sono i cantonieri il Movimento 5 Stelle chiede di assumere il Comune ha smantellato le squadre di operai ma ora cadono calcinacci anche dal porticato del teatro un po' di calcinacci ma in questi giorni Fano e probabilmente chi abita qui o chi ci è passato anche per sbaglio ieri avrà notato nel cuore della città nel giardino del Pincio dove c'è l'arco d'Augusto dei grandi lavori di preparazione la sabbia addirittura la sabbia che è stata posizionata lungo tutto l'anello quasi tutto l'anello del Pincio la fiamma di Vesta è stata accesa Fano è tornata nell'era dei Cesari al Pincio la suggestiva cerimonia che ha sancito l'avvio della manifestazione che durerà fino alla giornata di domenica con l'accensione del fuoco del sacro fuoco a Vesta ha avuto inizio ieri sera la Fano dei Cesari che per quattro giornate fino a domenica riporterà la città di Fano ai tempi dell'antica Roma facendo rivivere lo spettacolo dei giochi gli aspetti della vita militare e di quella domestica all'interno di una domus ricostruita in tutti i suoi particolari dalla colonia Giulia Fanestris è stata l'area del Pincio già predisposta per la corsa delle bighe offrire la cornice più suggestiva alla cerimonia di inaugurazione di cui vi parleremo nel telegiornale di questa sera alle 20.30 e poi la cronaca ancora dalla pagina di Fano dei Corriere ciclista speronata incidenti tra le vie Metauro e via Veneto ancora biodigestore non solo ricorso al TAR procederemo anche contro Fano il sindaco di Terra Roveresche ha guerrito parla di criticità nella procedura per l'inserimento di Aset a Barchi e poi Fano Grosseto l'asfalto risanato prima dell'esodo buone notizie per chi fa Fano Grosseto in superstrada l'assessore Baldelli mantiene la promessa sui lavori insomma hanno completato l'asfalto e quindi la strada verrà riaperta tranquillamente biodigestore ora ci sono gli esposti questo è il Carlino Terra Roveresche ha incaricato un consulente di scoprire le criticità e con questo ci fermiamo qui grazie per averci seguito buona giornata buon venerdì ci vediamo stasera come già detto per il telegiornale arrivederci grazie a tutti grazie a tutti